Ragazzi, oggi ho fatto shopping, sono andato al GameStop, indovinate cosa ho comprato, ma voi provate a indovinare cosa ho comprato, ho comprato una cosa bellissima, l'Oculus Rift, cioè ho comprato l'Oculus, solo a 800€, è pochissimo 800€, cioè c'era l'offerta, oggi l'ho comprata a 800€, io lo metto intanto. Wow, com'è realistico, è bellissimo, cioè è una cosa, è una cos'è, è 3D proprio, cioè sembra le giostre quando vedi con, quando ti metti quegli occhiali 3D, che ti metti quelle cose in paranormale, e senti quelle cose tutte 3D, cioè è realistico ragazzi, è bellissimo, solo 800€ ma ne valta la pena, che figo, è bellissimo.